Oggi presentiamo i risultati di quattro anni di duro lavoro nel settore del verde nella città. Dal 2011 ad oggi sono numerosi gli interventi di riqualificazione di parchi e aree verdi della città, a testimonianza dell'attenzione che l'amministrazione comunale dedica alla cura e valorizzazione del territorio. Nella sala Nugnes del Palazzo di Via Verdi il vice sindaco Tommaso Sodano ha fatto il punto sui lavori conclusi e quelli ancora in corso nei diversi quartieri di Napoli. Partiamo dalla riqualificazione dell'area dell'ex gasometro al vomero. Qui ad aprile scorso sono partiti i lavori per la realizzazione di un parco agricolo con numerosi esemplari arborei. L'intervento è costato quasi 960 mila euro e prevede anche orti didattici, aree gioco e percorsi ginnici. Dalla collina del vomero si passa a quella dei camaldoli, considerevole il progetto di riqualificazione del parco avviato a febbraio su un'area di 18 mila metri quadrati e costato più di 990 mila euro. Conclusa invece la riqualificazione dell'impianto sportivo comunale in Via Orsolona e Iguantai che sarà presto dato in affidamento. Abbiamo oltre 2 milioni di euro investiti per riqualificare e manutenere tutti i parchi importanti della città dal laghetto al parco Troisi, alle aree attrezzate in tutti il parco di Filippo, al parco di Latislavo, a tutti i parchi centrali. Stiamo completando i lavori di pavimentazione, già completati quelli di irrigazione della villa comunale. Abbiamo sistemato, stanno cominciando a consegnare e a realizzare le prime aree attrezzate per bambini e anche per bambini diversamente abili con una delibera che abbiamo approvato che prevede appunto che le giostre debbano essere inclusive e le realizziamo in tutta la città. Tra le procedure ancora in corso, quella per l'affidamento in via sperimentale per tre anni della gestione dell'area camper al parco dei Camaldoli, una superficie destinata a finalità turistico-ricettive con l'installazione di stalli per la sosta e spazi destinati a servizi e il progetto di Piazza Carlo III in fase di aggiudicazione con il ridisegno degli aiuole, la messa a dimora di nuove essenze e la ripavimentazione dell'area. Poi va avanti l'affido delle aree, le adozioni che hanno superato le 260 aree già assegnate all'associazione cittadini e il 30 giugno scade il termine anche per l'affido anche a privati di aree all'interno di parchi pubblici per attività ludiche o ricreative in cambio della manutenzione del verde nei parchi.